I brani che avevano dei titoli interessanti non li avevano vedi No, non abbiamo fatto lì, no, non li avevano così Luba Non è del... Cosa mi hanno fatto scrivere oggi sulla scrizione? Io non lo posso dire Alcuno si chiama Tu, ma non c'è Uno si chiamava, un bravo si chiama Non fanno un pacciere Ma questo è? Questo? No, non lo posso dire 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 Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti